Ultimi giorni di un 2023 da record per gli hotel in Laguna, il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa traccia un primo quadro molto chiaro. È stato un anno eccezionale sia in termini di fatturato sia in termini di tassi di occupazione. È vero che dicembre è stato un mese piuttosto brutto, bassa stagione, ma ci sta. Nell'ambito dei 12 mesi è una cosa che assolutamente gli alberghi possono sopportare. Abbiamo avuto un picco al Ponte d'Immacolata, peraltro non eravamo al tutto esaurito. Invece andremo al tutto esaurito con ogni probabilità a Capodanno, ma Venezia da sempre è una grandissima destinazione gettonata da tutti per passare il Capodanno. Capodanno che non significa soltanto il giorno, la notte di Capodanno, ma significa anche il giorno prima, il giorno dopo, perché c'è la tendenza ovviamente a rimanere almeno due o tre giorni da parte dei turisti. Per Natale invece il tasso di occupazione del 60% o poco superiore è prevedibile. E quindi non stupitevi se vedrete lo stesso dei turisti girare per Venezia. Venezia a Natale è lo stesso, è veramente meravigliosa, Venezia è sempre stupenda, è sempre nel cuore dei turisti. Si guarda poi già alle prospettive per il prossimo anno. Gli studi dicono che i turisti dovrebbero diminuire la spesa ai turisti europei tra il 4 e il 10%, però contemporaneamente i nostri remontazioni sono quelle di un turista che risparmia magari sulle destinazioni minori, ma sulle destinazioni top continuerà a spendere. Venezia è tra queste. E quindi vedremo a Carnevale come andrà. Carnevale sarà basso, arriverà a fine gennaio, ma oggi arrivano le prime prenotazioni, e quindi se Carnevale sarà positivo con ogni probabilità i timori sbaniranno e 2024 potrebbe essere un anno speculare a quello del 2023.